Il fantastico, nelle sue varie accezioni e declinazioni sia in letteratura che al cinema, può essere uno strumento utile per affrontare meglio la vita, i problemi? O è puro escapismo, fuga dalla realtà come alcuni sostengono? Ne parliamo nell'episodio di oggi, cercando di dare qualche risposta sensata e analizzando qualche opera. Una in particolare, recente, Il ragazzo e l'airone, l'ultimo film del maestro Miyazaki che ha vinto l'Oscar come miglior film di animazione. L'ultimo in senso cronologico, perché poi tocca vedere se è il suo ultimo, anche se sembrerebbe tale, probabilmente ne farà un altro, vedremo. Comunque, prima di entrare nel vivo al discorso, ricordo gli appuntamenti con Il Gatto Rosso che sono in diretta su Radio Svolta ogni venerdì alle 18. La diretta si può ascoltare semplicemente andando sul sito di Radio Svolta che è radiosvolta.it, ma poi gli episodi rimangono sempre disponibili per l'ascolto in qualunque momento in podcast, basta che andate su uno dei principali distributori, ad esempio Spreaker o Spotify. Ovviamente i podcast si possono anche ascoltare sul sito della radio, basta andare sulla pagina dedicata che è radiosvolta.it slash podcast. Ciò detto, entriamo nel vivo del discorso. Il fantastico, fantascienza e fantasy in particolare, è stato accusato di ogni sorta di nefandezza, specie qui in Italia, e lo è ancora tutto oggi, anche se le cose stanno cambiando un po'. Periodicamente ritorna la polemica contro la letteratura fantasy, con le accuse più strampalate. Le cattive prestazioni degli studenti italiani nel campo della matematica sono da attribuire anche a un'eccessiva diffusione tra i giovani di testi come Il Signore degli Anelli e Harry Potter. C'è un nesso tra il fantasy e il dilagare del ricorso alle medicine alternative di tutti i tipi o di metodi di cura fai-da-te, senza dimenticare l'imperversare del complottismo come base di spiegazione degli eventi più diversi. Tutte bufale, appunto, proprio per rimanere in tema di bufale. Prima di tutto sarebbe interessante sapere se esistono delle analisi statistiche e sociologiche che certificano, o meglio, dimostrano una relazione tra il fantasy, la sua diffusione e lo sviluppo dell'irrazionalità. Forse potremmo ragionare sulla questione in termini meno superficiali. Ovviamente non ci sono queste statistiche e le bagianate che ho citato prima vengono dette senza citare dati né fatti. In realtà i ragazzi e le ragazze che gravitano intorno al mondo del fantasy o più in generale della speculative fiction sono prima di tutto degli straordinari lettori e ciò già basta collocarli ampiamente sopra la media di quanto legge la maggioranza degli italiani in un anno, e cioè niente. Teniamo anche presente che cimentarsi in un videogame, un gioco di ruolo, un gioco da tavolo che sono a volte ricchi di strategie piuttosto complesse, dimostra che magari si fa un certo uso di logica, intelligenza, razionalità, seppure magari in un ambiente che non è strettamente reale, ma piuttosto popolato da esseri fantastici. Bufale, credenze e fantasie di complotto non si diffondono per colpa del fantasy, si diffondono per altri motivi. Ne abbiamo parlato in un episodio della scorsa stagione in cui prendevo in esame il lato oscuro delle storie. Vi lascio il link in descrizione, come poi in descrizione trovate tutti i riferimenti che ho usato per questa puntata, quindi libri e articoli. Ne parla poi di come si diffondono Bufalec e credenze in maniera molto estesa e interessante Massimo Polidoro nel suo libro La scienza dell'incredibile, come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai. E appunto lui in questo libro, che è dell'anno scorso, 2023, spiega bene come nascono e si diffondono le credenze, le bufale, e stranamente, guardate un po', non chiama mai in causa i romanzi fantasy. Ma guarda che strano. Infine, riguardo a quell'altra obiezione che viene mossa spesso, eh, ma il fantasy non è reale. Allora, anche questa è un'obiezione per lo più inconsistente e credo venga fatta con tanta ignoranza di base. Il fantasy rientra nella fiction, come tutti i romanzi, i racconti, anche i film. E appunto è fiction, non è realtà. Anche il romanzo di tipo mainstream, quindi la narrativa verista o realista, verga Steinbeck, sono sempre fiction, non sono reali, non sono il tavolino che ho qui davanti a me, il monitor che ho davanti a me, il microfono con cui parlo. Questa è la realtà, non una novella verista. Qui c'è tanta confusione, credo che derivi anche dalla poca dimestichezza, a scuola, con appunto la letteratura fantastico e il fantastico come strumento. Ci sarebbe poi da aprire tutta la parentesi riguardo a fiction e non fiction. È un argomento molto lungo, ma se volete approfondire c'è un ottimo testo universitario, perché bisogna andare a fondo alle questioni, che si intitola proprio fiction e non fiction. E spesso è vero che il confine tra questi due settori, che sono entrambi i settori dell'editoria, dei libri, è labile a volte. E si può fare confusione. Comunque sia, è abbastanza chiaro che quando abbiamo davanti un romanzo, quella è fiction e nessun tipo di romanzo vada preso come la realtà. Anzi, io credo che, aggrappandosi tanto alla narrativa realista è iperrealista, poi si perda la capacità di leggere i sottotesti, metafore e allegorie. E quindi uno non è più in grado di fare corrispondenze, di leggere tra le righe, di leggere i sottotesti. E ecco che si arriva, ad esempio, a credere che i nani di Biancaneve sono creature affette da nanismo. No, proprio no. Fatte tutte queste premesse, non è però scontato affermare che il fantastico in blocco possa fornire validi strumenti per affrontare alcuni problemi della vita. Questo dipende dalle singole opere e vedremo che alcune, quelle che poi diventano grandi classici, lo fanno, ma ce ne sono tante altre che sono semplice fuffa. Escapismo nella peggiore accezione del termine. Partiamo però da un argomento più generale che ho trattato di recente, qui è la Biblioteca del Gatto Rosso, ed è un argomento basilare per quel che riguarda la narrativa e le storie, ovvero il viaggio dell'eroe. Accenno brevemente per chi non l'avesse mai sentito, però è davvero un argomento molto, molto basilare. Il viaggio dell'eroe è una struttura narrativa che è stata formalizzata di recente, ma è vecchissima, ed è una struttura che si è visto ricorrere in tante, tante opere, fin dall'antichità, dal mito. Da qui il nome Il Viaggio dell'eroe. Il viaggio è costituito da varie tappe. Un prototipo perfetto e molto semplice di Viaggio dell'eroe è, ad esempio, l'arco narrativo della vecchia trilogia di Star Wars. E in realtà è un arco di archi, però già nel primo film, una nuova speranza che sarebbe episodio 4, insomma il primo, già c'è tutto il viaggio dell'eroe, che è quello che fa Luke Skywalker. Il nostro eroe, in questo contesto eroe, è sinonimo di protagonista, non è da intendere per forza come l'eroe classico. Dicevo, l'eroe parte dal mondo ordinario, che è il suo ambiente, riceve una chiamata all'avventura e si rega nel mondo straordinario. Facendo, come al solito, questo esempio di Star Wars, il mondo ordinario per Luke sarebbe la sua famiglia, Owen e Beru, gli zii, la fattoria, la vita nella fattoria, che gli sta un po' stretta, perché all'inizio lui vorrebbe arruolarsi nell'Accademia Imperiale. Quando arriva il robottino con il messaggio per Leia, lui va a cercare Obi-Wan e inizia ad entrare nel mondo straordinario. L'effettiva entrata nel mondo straordinario si ha poi con una sorta di soglia fisica quando il gruppetto entra nella cantina a Tatooine e lì, anche per lo spettatore, si spalanca effettivamente questo ambiente esotico pieno di creature bizzarre. e lo sono anche per Luke. E da lì parte l'avventura, avventura che inizialmente però Luke rifiuta quando Obi-Wan gliela propone. Lui l'accetta soltanto quando, tornato alla fattoria, trova che gli Stormtrooper l'hanno devastata perché cercavano i due droidi. I dettagli sul viaggio dell'eroe non ve li fornisco qui. Se siete interessati, se non li conoscete, li trovate nell'episodio che vi ho citato. Ovviamente il link è in descrizione. Quindi c'è la differenza fra mondo ordinario e mondo straordinario in questa importantissima e fondamentale struttura narrativa. Vorrei fare anche un'altra distinzione fra mondo primario e mondo secondario e poi vedere come queste cose si mischiano, si sovrappongono, eccetera. Il mondo primario, nelle storie, in narrativa e anche ovviamente al cinema, è il nostro mondo. Il mondo secondario, termine che tendenzialmente ha ben introdotto e spiegato Tolkien, è un mondo differente dal nostro, ma che possiamo visitare nelle opere di narrativa e percepire in ogni caso come credibile e reale se viene descritto e scritto bene, come ad esempio Tolkien fa con La terra di mezzo. Quindi per lui, nella sua opera, il mondo secondario è La terra di mezzo, un qualcosa che non esiste fisicamente, non ci posso andare col corpo, ma ci posso andare leggendo l'opera di Tolkien. Non c'è una perfetta corrispondenza tra mondo ordinario e mondo primario, mondo straordinario e mondo secondario. Non è sempre così, perché, ad esempio, abbiamo già visto nell'esempio di Star Wars che tutto Star Wars si svolge in un mondo secondario, che è la galassia lontana lontana. Luke parte dal suo mondo ordinario, che è un pezzetto del mondo secondario, e poi va nel mondo straordinario, che è una parte molto più grande, ma sta sempre nel mondo secondario. Quindi, guardando Guerra e Stellari, noi rimaniamo sempre all'interno del mondo secondario, così come potremmo rimanere sempre all'interno del mondo primario. Facciamo un esempio la serie Beverly Hills Cop. Axel Foley parte dal suo realtà di poliziotto, che è quindi il suo mondo primario, il suo mondo ordinario, scusate, che è dentro il mondo primario, e poi va a Beverly Hills per condurre una certa indagine. Ma siamo sempre all'interno del mondo primario. Tuttavia, una volta che Axel Foley arriva a Beverly Hills, si ritrova con un ambiente, delle regole che non gli sono familiari, ed ecco che lui è entrato nel mondo straordinario. Ancora un altro esempio, il mago di Oz. Lì vediamo che si parte dal mondo ordinario, che è anche il mondo primario, e poi si va ad Oz, che è il mondo straordinario e anche il mondo secondario. E ci possono essere ovviamente vari intrecci. Una cosa fondamentale nel Viaggio dell'eroe, poi, sono le tappe successive che compie l'eroe all'interno del mondo straordinario. Ha di fronte a sé poi delle prove, un antagonista, di solito, e dovrà imparare delle lezioni, che in qualche modo possiamo collegare con un ciclo di morte e rinascita. La cosa fondamentale è che al termine del viaggio che cosa fa l'eroe? O parte per un'altra avventura, quindi va di nuovo in un mondo straordinario, oppure torna al mondo ordinario con queste lezioni che ha appreso e che ha verificato di aver appreso. Lui torna nel mondo ordinario cambiato, ha capito qualcosa, ha appreso delle lezioni. Questo è ciò che vive l'eroe. E il lettore? Beh, il lettore, anche lui, può tornare a casa avendo appreso qualcosa insieme all'eroe, oppure no, perché magari abbiamo di fronte un'opera di puro intrattenimento. Dipende. Quando abbiamo a che fare con, di solito, i grandi classici della letteratura e del cinema, anche il lettore, alla fine del viaggio, cioè dell'opera, torna con una qualche lezione, che non vuol dire che l'opera gli ha fatto la romanzina, ma gli ha posto delle domande, gli ha posto dei problemi che si spera il lettore provi a mettere a frutto, ad affrontare, a trarre anche lui una qualche lezione dopo aver affrontato corrispondentemente all'eroe i suoi problemi. E qualcosa di questo genere avviene in alcune opere e in particolare in una che è Il ragazzo e l'airone di Miyazaki. Nei lavori di Miyazaki c'è tanto fantastico e Miyazaki lo usa anche piuttosto abilmente. Io qui mi soffermo su un'opera in particolare perché ci consente di fare appunto ragionamenti molto interessanti sul tema che stiamo trattando oggi. Già lo dico, questo non è un episodio di spiegoni sul ragazzo e l'airone del tipo il vero significato del ragazzo e l'airone. No, nulla di tutto ciò. Ne trovate in abbondanza di materiale del genere che ritengo peraltro inutile perché credo che gli spettatori e i lettori insomma siano persone pensanti e quindi con un minimo di sforzo e di documentazione possono arrivare tranquillamente alle loro conclusioni. Siamo però mi rendo conto malati in questa epoca di spiegoni un qualcosa che dovremmo abbandonare. Introduco brevemente la trama del film perché magari qualcuno non l'ha visto e allora tutto il mio discorso potrebbe rimanere campato in aria e piuttosto incomprensibile. Siamo a Tokyo nel 44 il protagonista è il dodicenne Makito che una notte perde la madre a causa di un incendio divampato nell'ospedale in cui era ricoverata il ragazzo è colpito duramente dalla perdita e finisce per chiudersi in se stesso mentre il resto del mondo dell'ambiente intorno a lui va avanti quindi il padre si risposa con la sorella della madre la zia di Makito qui si fa riferimento un po' a una tradizione giapponese in cui questo accadeva non so se accade ancora tuttora quindi ecco qui il motivo poi il padre fa un altro figlio appunto con la sorella della madre di Makito e si trasferiscono a casa di lei fuori città Makito però è bloccato nel suo lutto non riesce ad andare avanti e assume quei comportamenti di proprio un ragazzino che chiede attenzione perché lo vediamo in una scena quando torna a scuola che prende una pietra e si ferisce in testa per appunto essere accudito lo vediamo che rimane appallottolato nel letto chiari sintomi di un ragazzo che richiede attenzioni c'è poi l'incontro con un airone una creatura che ha qualcosa in più del normale e anche degli aspetti piuttosto inquietanti e il ragazzo riceve una chiamata all'avventura perché l'airone che parla gli dice che la madre è viva e che Mahito deve seguirlo per ritrovare la madre Mahito a questo punto entra in un luogo preciso che è una torre che fa parte della casa in cui sta vivendo e questa torre però ha qualcosa di misterioso perché in realtà non bisognerebbe entrare in questa torre Mahito a questo punto fa il suo ingresso in un mondo straordinario ingresso che è segnato proprio da una soglia che richiama poi alla letteratura infatti la porta di questa torre sì quello che era l'ingresso principale in sostanza ha una scritta che ci ricorda un'altra celebre porta della letteratura e qui si fa un riferimento a Dante a questo punto nella torre il ragazzo fa conoscenza con un vecchio che poi tornerà e passa in un mondo straordinario perché questa torre è una sorta di portale un luogo che esiste contemporaneamente in più mondi una sorta di punto di passaggio una sorta di punto di raccordo quindi Mahito si ritrova in un mondo straordinario e fa un suo viaggio incontra degli alleati e incontrerà anche degli ostacoli delle prove soprattutto verso la fine incontra di nuovo questo vecchio che gli fa una proposta questo vecchio ve lo dico molto molto in soldoni poi giustamente guardatevi il film ha costruito in un certo modo questo mondo straordinario utilizzando le proprietà di certe pietre che derivano da una pietra che è caduta dal cielo qui chiaramente c'è un parallelo il vecchio è Miyazaki in cerca di un'erede Miyazaki che ha costruito i suoi mondi fantastici e chiede a Mahito di prendere il suo posto e quindi di utilizzare queste pietre per costruire il suo mondo che può essere un mondo giusto buono l'invito è a rimanere lì Mahito però fa la sua scelta la sua non è né giusta né sbagliata a tal proposito Miyazaki non si sbilancia e Mahito in particolare rifiuta di rimanere nel mondo straordinario di portare avanti il lavoro del vecchio e decide di tornare a casa quindi succederà qualcosa a questo mondo straordinario lo potete vedere nel film diciamo che Miyazaki sembra non prendersela male per il fatto di non aver trovato un erede che cosa succede al nostro Mahito beh lui ha preso delle lezioni e è cresciuto in che senso fisicamente è sempre uguale lui è sempre un dodicenne ma interiormente è diventato più adulto ha superato il trauma e non è più bloccato e come simbolo di ciò lui si porta dietro qualcosa dal mondo straordinario a segno del viaggio Mahito quindi ha preso delle lezioni importanti ha acquisito degli strumenti e lo spettatore che strumenti può acquisire dall'opera allora il film ha tanti elementi autobiografici però parla di situazioni in cui tanti si sono trovati o si possono trovare a tanti di noi è capitato o capiterà di perdere un genitore o più in generale di subire un trauma importante legato a una perdita questo film è una grande opera proprio perché va oltre il semplice aspetto biografico quindi conoscere tutti i dettagli della vita di Miyazaki si può essere utile per cogliere tanti particolari del film però non è questo l'essenza non è che senza sapere tutto della vita di Miyazaki allora l'opera non si capisce non è vero proprio perché parla di questioni generali che vanno oltre il particolarismo questo è un ottimo film e il succo della questione è che il fantastico può fornirci tanti validi strumenti poi ovviamente ci sono un sacco di simboli simbolismi nell'opera che la rendono in alcuni punti magari criptica però non è necessario capirli tutti tante cose vengono lasciate alla libera interpretazione dello spettatore ad esempio i parrocchetti nella torre le rane che a un certo punto ricoprono maito io nei parrocchetti ci ho visto alcune cose che ora non vi sto a dire perché se no st'episodio non finisce più però anche se uno non capisce questi dettagli pazienza penso che potremmo convivere tranquillamente con il fatto che alcuni dettagli di un'opera non ci siano chiari non è necessario andare a vedersi video di spiegoni come dicevo perché non servono veramente a nulla è meglio fare un po' di sano esercizio mentale ma lo spettatore di nuovo gli acquisisce questi strumenti e beh sì perché le questioni di cui si occupa Miyazaki sono questioni in cui noi ci possiamo trovare quindi c'è un invito a superare i blocchi i traumi non per forza facendo quello che fa Mahito però sicuramente Miyazaki ci suggerisce che il fantastico può essere d'aiuto in quanto magari ci fa vedere le cose durante il viaggio nel mondo straordinario sotto un altro punto di vista ma di più quest'opera è importante perché fa delle domande e qui veniamo un po' al succo della questione quando è che le opere forniscono gli strumenti quando fanno domande una in particolare c'è un libro che compare nel film in cui si imbatte Mahito il titolo è e voi come vivrete allora anche qui tanti spiegoni sulla rete sul fatto che questo romanzo del 37 è un qualcosa di importante per Miyazaki e quanto si è ispirato con il ragazzo e l'airone a questo romanzo allora non è di nuovo questo il punto e voi come vivrete sta lì perché pone una domanda al protagonista ma la pone anche lo spettatore è una domanda rivolta anche a chi guarda è un invito a rispondere solo che rispondere è faticoso ci costringe a magari fare dell'introspezione e ad affrontare questi problemi proprio come deve fare Mahito e quindi allora è meglio perdersi nei dettagli da nerd negli spiegoni nei video esplicativi che danno solamente l'illusione di aver capito l'opera ma non forniscono alcun reale strumento applicabile nella vita quindi ecco ho preso ad esempio il ragazzo e l'airone perché è un'opera piuttosto densa una di quelle che grazie al viaggio nel fantastico permette di acquisire degli strumenti e quindi di nuovo come se ce ne fosse bisogno penso che abbiamo smontato abbondantemente la credenza che con la letteratura e i film fantasy e fantastici poi ci si perda ci si ristacchi dalla realtà si finisca a credere alle bufale insomma non è vero però ci sono opere fantasy o fantascientifiche che non forniscono alcuno strumento al lettore e allo spettatore e sono puro escapismo ed intrattenimento facciamo qualche esempio i cinecomics sì lì magari cercano di dare l'illusione di mettere una qualche morale no come discorsi che fa Thanos però veramente è fuffa un altro esempio è Avatar l'universo espanso di Star Wars la serie gli anelli del potere sono tutte vuote queste cose queste opere non c'è nulla di male per carità nell'escapismo se non ci si limita solamente a quello è come andare sostanzialmente tutti i giorni a pranzo a cena a McDonald's ok non è quello il modo di mangiare il problema credo è che oggi la quantità delle opere prodotte è tale che possiamo campare tranquillamente solo di intrattenimento ed escapismo e questa cosa si è accentuata anche con le piattaforme di streaming che ci propongono contenuti affini a noi in qualche modo usando un algoritmo e quindi noi possiamo indulgere sempre nella stessa pozza fare binge watching a palate e non evolvere mai rimanere sempre in acque stagnanti ci sono opere effettivamente che sono puramente consolatorie e non problematiche qui uso l'accezione che dà questi termini Umberto Eco quindi le opere di consumo consolatorie che appunto vogliono essere solamente di consumo intrattenimento non scomodare mai troppo il lettore fornire conforto e poi ci sono le opere problematiche come il ragazzo e l'airone problematiche nel senso che pongono domande e cercano di affrontare problemi e quindi sono più faticose perché il lettore è chiamato a partecipare in maniera attiva e cercare nei limiti delle sue possibilità di rispondere a queste domande a questi interrogativi quindi chiaramente le opere problematiche richiedono uno sforzo maggiore e magari hanno un tasso minore di piacevolezza le opere che citavo prima sono tutte contraddistinte da un appagamento immediato e qui vi voglio citare in particolare un paio di sottogeneri del fantastico che sono proprio puramente consolatori non so se li conoscete io li ho scoperti da poco li bazzico pochissimo perché appunto non indulgo in opere consolatorie sto parlando del Cosifantasy e del Cosipunk che ultimamente sono abbastanza di moda e adesso vediamo una breve intro per capire un po' meglio cosa sono il Cosifantasy trova terreno fertile soprattutto nella letteratura young adult ah la pacottiglia young adult quali sono le sue caratteristiche principali ok il termine così ce lo dovrebbe già suggerire le caratteristiche principali sono ambienti tranquilli spesso rurali o comunque lontani dal trambusto cittadino e poi c'è una trama che pone l'accento sulla crescita personale sull'amicizia e sulla bellezza delle piccole cose il focus della narrazione è sui personaggi e le relazioni che intrecciano con un conflitto narrativo di natura non violenta spesso introspettivo o romantico perciò gli antagonismi se sono presenti se sono risolti con il dialogo e la comprensione reciproca piuttosto che attraverso epiche battaglie o uno scontro teso ma che domande pongono al lettore queste opere che strumenti forniscono nessuno perché la consolazione non fornisce strumenti il cosy punk è l'analogo nella fantascienza un esempio un'opera moderna e un po' un punto di riferimento per questo genere è un salmo per il robot di Becky Chambers quindi è qui cito da un articolo se cercate una fantascienza ottimista piena di speranza fatta di brevi traguardi da raggiungere di emozioni quotidiane piccole e grandi allora quello che fa per voi è la cosy cosy sci-fi o cosy punk ovvero la fantascienza accogliente non c'è da salvare il mondo non ci sono personaggi cattivi non ci sono super uomini o super eroi ma persone tranquille semplici che spesso svolgono il loro lavoro e sono pronte ad aiutare il prossimo senza chiedere nulla in cambio ma neanche in nome di un dio o di una norma che provenga da qualche forma di religione è la vita semplicemente quella che viene raccontata nelle storie di questo nuovo filone della fantascienza la fantascienza accogliente è costruita più su un certo tipo di atmosfera che su regole precise gioca con la stessa vita del lettore però questa insomma va presa con le pinze perché leggendo queste opere tendenzialmente vengono sollecitate emozioni però non ci sono eventi impattanti questa fantascienza vuole raccontare di come nascono crescono e si evolvono amicizie non solo tra umani ma anche tra robot o alieni è ad esempio ciò che accade nel citato romanzo di Chambers in cui un uomo e un robot costruiscono la loro amicizia lentamente dopo l'iniziale diffidenza che scaturisce dal fatto che i robot alcune centinaia di anni prima hanno abbandonato gli uomini si può quindi raccontare di una storia d'amore in questo tipo di fantascienza così come il cameratismo che naturalmente nasce tra persone che lavorano insieme tutti i giorni e vivono insieme pur appartenendo a razze diverse il tutto senza che necessariamente ci sia all'orizzonte un evento catalizzatore come ad esempio la ricerca di un oggetto che tutti vogliono oppure una missione da compiere o ancora una galassia da salvare oppure una minaccia all'orizzonte che potrebbe distruggere questa galassia un'altra caratteristica tipica del cosy punk è anche una certa ironia che pervale tutta la storia un'ironia fatta di leggerezza e di voglia di prendersi in giro tra persone che sono consapevoli che la vita è già di per sé fuoriera di problemi e non c'è bisogno di appesantirla con stati d'animo negativi e qui la faccenda è ampiamente discutibile credo però il sottostante è esattamente questo oh mio dio quanto è brutto il nostro mondo la vita è uno schifo quindi only good vibes e ci andiamo a rintanare in un mondo secondario in cui sia tutto carino e coccoloso dunque se vogliamo trovare un punto di vista definitivo che raccoglie tutte le storie di questo filone della speculative fiction allora possiamo dire che le sue coordinate principali sono la voglia di scoprire le piccole gioie della vita e le relazioni tra i personaggi senza tralasciare il buon vecchio sense of wonder che accompagna da sempre la buona fantascienza allora qui c'è un'abbondante dose di utopia fin credo anche all'eccesso qui c'è anche il punto di contatto con un altro sottogenere della fantascienza di cui avevo parlato all'inizio della scorsa stagione che è il solar punk allora queste opere in conclusione sono il male ovviamente no però altrettanto ovviamente non forniscono strumenti utili perché ci servono strumenti quando le cose vanno male non quando le cose vanno bene e soprattutto ci servono gli strumenti per quando le cose vanno male queste opere io credo che è verissimo ci sta sempre l'intrattenimento e il concedersi una sorta di peccatuccio consolatorio però credo che queste opere un po' alimentino il pregiudizio sul fantastico di cui parlavamo all'inizio ovvero il fatto che il fantastico è un qualcosa che poi fa distaccare il lettore dalla realtà o che venga cercato con quello scopo e alimentano anche il pregiudizio secondo cui il fantastico sia solo escapismo e fuffa un altro aspetto io credo che queste opere e l'andare a cercarle nasconda l'illusione tutta moderna e per lo più radicata nel mondo occidentale ovvero nella società del benessere che si possano schivare le difficoltà e le brutture e gli spigoli della vita mi isolo nel mio angoletto accogliente coccoloso e mi illudo che la vita qui non mi piglierà mai a calci in bocca come Chuck Norris quindi alla fine non serve nemmeno fare un minimo di lavoro di introspezione però qui c'è il risultato poi che se indulgo tanto in questo tipo di narrazioni e alla fine sarò privo di strumenti quando inevitabilmente la vita mi piglierà a calci in bocca torniamo al ragazzo e l'eruone e l'incipit è proprio questo ed è qui che lavora bene Miyazaki il punto di partenza è che di notte Maito si ritrova con un incendio che colpisce l'ospedale dove era ricoverata la madre e la madre muore si becca Maito una trambata sulle gengive senza avere la minima preparazione e senza che se lo fosse aspettato non c'era alcun preavviso e appunto lo sottolinea proprio con questo incendio di notte perché nel sonno mentre Maito era tranquillo al calduccio bam gli arriva una mazzata sulla noce del capocollo e qual è la sua reazione? è quella di chiudersi in se stesso perché è privo di strumenti per affrontare questo gigantesco problema il che è comprensibile ha 12 anni quindi è la prima volta che si ritrova ad affrontare un trauma di simile entità che è la perdita di un genitore però rinchiuderci in un angolino coccoloso e pensare che lì la vita non ci toccherà mai non è un buon sistema perché la vita ci toccherà e come? e con degli spigoli spesso molto accuminati quindi alla fine credo che servano più opere come il ragazzo e l'airone e meno del tipo cosy punk o cosy fantasy che non fanno altro che farci indulgere in un'illusione riaffronteremo questo argomento in parte quando però ci sposteremo su un autore molto famoso molto importante un classico di narrativa però realista sto parlando di Steinbeck in particolare parleremo di Uomini e Topi e lì proseguiremo un po' questo discorso perché quell'opera in particolare ma non solo quell'opera tante sue opere Steinbeck le voleva destinare come target primario a chi aveva più bisogno in particolare lui pensava ai contadini nell'epoca a ridosso e subito dopo la grande depressione che c'è stata nel 29 poi negli anni 30 negli Stati Uniti e però queste opere specialmente Uomini e Topi sono opere tragiche che fanno sbattere i lettori di fronte a drammoni allora perché Steinbeck fa una cosa del genere come? lui vorrebbe mettere in mano a chi già fatica si spacca la schiera ed è in difficoltà un'opera tragica faticosa anche è cattivo quindi invece no perché nella visione giustamente di Steinbeck c'è il fatto che chi è più in difficoltà ha più bisogno di strumenti per superare queste difficoltà indulgere nelle coccole ci fa piacere certamente verissimo però non ci fornisce strumenti e questo era un po' il discorso che volevo fare e sono sicuro che a qualcuno salteranno i nervi perché gli ho toccato il suo angolo confortevole la sua comfort zone nelle prossime puntate faccio un'anticipazione visto che siamo in chiusura parleremo venerdì prossimo di lettura tecniche di lettura ed errori che facciamo leggendo lo facciamo con un ospite che si occupa di insegnare a studiare e vedremo come leggere bene sia importante ma sia un qualcosa che non facciamo tanto e non siamo neanche troppo consapevoli dell'importanza delle tecniche di lettura sovente cadiamo in errori che poi portano a incomprensione e analfabetismo funzionale come purtroppo i dati ci dicono e poi parleremo sempre per rimanere sulla narrativa fantastica come strumento di Dune lo faremo con tutta calma tra due settimane credo che comunque il film sarà ancora in sala ma affronteremo il tema Dune in maniera un po' insolita quindi di nuovo niente spiegoni sulla lore di Dune sul vero significato di Dune non mi concentrerò nemmeno tanto su quello che faccio di solito cioè sul passaggio dal romanzo al film ma la piglieremo un po' dal fianco diciamola così e parleremo di un tema che però è centrale sia nel romanzo che poi giustamente anche nei film di Villeneuve e quindi arriveremo a parlare di un tema che ho accennato oggi cioè di come si diffondono le credenze e poi perché sono anche tanto difficili da sradicare in effetti questo è un tema che c'è in Dune perché si parla di una profezia quindi una credenza che si radica in un certo tessuto sociale una profezia che riguarda poi un messia e che poi sarà impossibile assolutamente da sradicare tant'è che finisce in un carnaio gigantesco e quindi vedremo che ci sono delle meccaniche molto interessanti che sia Villeneuve che Herbert hanno colto e che sono comuni proprio a come credenze bufale si radicano nella società